Assumiamo una posizione che per noi sia comoda. Possiamo stare seduti, distesi o anche semplicemente in una posizione che ci consenta di stare sufficientemente rilassati ma anche vigili. Chiudiamo gli occhi oppure lasciamoli leggermente socchiusi e possibilmente fissi su un punto davanti a noi. E concediamoci di posare il palmo di una mano su una zona del nostro corpo che abbia per noi un effetto calmante. Può essere per esempio una mano sul cuore, una mano sul dorso dell'altra mano oppure sul braccio. L'importante è che in questo tocco noi assumiamo un'intenzione dolce e amichevole nei nostri confronti da mantenere per tutto l'esercizio. Un'intenzione che ci viene ricordata da questo tocco gentile, da questa mano calmante, amichevole. E ora piano piano portiamo la nostra curiosità al nostro respiro. Un interesse gentile, caldo. Notiamo com'è il nostro respiro in questo momento. Se è un po' veloce, alto. Se c'è apnea. E nel caso ci sembri un po' veloce, proviamo piano piano a rallentarlo. Con un'intenzione specifica di renderlo un po' più lento. Possiamo farlo nel modo che ci viene spontaneo. Oppure possiamo provare a contare. Per esempio, conteremo fino a tre per ogni ispirazione, fino a tre per ogni ispirazione. E poi gradualmente passeremo a contare fino a quattro, fino a cinque. Magari anche arrivando ad allungare i tempi della ispirazione. Arrivando fino a sette, otto. Possiamo fare in questo modo, per esempio. In, due, tre. Out, due, tre. In, due, tre. Out, due, tre. In, due, tre, quattro. Out, due, tre, quattro. In, due, tre, quattro. Out, due, tre, quattro. in 2 3 4 5 out 2 3 4 5 in 2 3 4 5 out 2 3 4 5 in 2 3 4 5 out 2 3 4 5 6 7 in 2 3 4 5 out 2 3 4 5 6 7 in 2 3 4 5 out 2 3 4 5 5 6 7 8 in 2 3 4 5 out 2 3 4 5 6 7 8 e ora lasciamo un po alla volta che il nostro respiro si assesti spontaneamente concedendoci anche di osservare qual è il suo ritmo se è un pochino più lento di prima e nel caso ci occorra continuare a calmarlo possiamo portare maggiore enfasi sulla ispirazione e provare sempre a tenerla un pochino più lunga rispetto alla ispirazione e mentre facciamo questo sentiamo proprio che il respiro è una carezza interna una carezza che ci nutre con il suo ossigeno una carezza che possiamo sentire un po' calmante proprio come il tocco della nostra mano sul corpo calmante come le onde del mare quando il mare è tranquillo e le onde sono lunghe e che hanno questo andamento continuo crescente e poi decrescente proprio come i nostri respiri e possiamo dire a noi stessi inspiro e la mente si calma espiro ed il corpo si calma e lasciamo adesso che il nostro respiro sia così com'è senza più governarlo con l'intenzione di rallentarlo ma gettandolo così com'è tenendo la nostra attenzione sulle sensazioni fisiche che si sviluppano in una certa regione corporea da noi scelta mentre l'aria entra ed esce se ci riesce possiamo stare col respiro addominale per esempio percependo l'addome che si dilata e si rilassa ad ogni respiro oppure sulle sensazioni che ci sono nel petto che ogni volta che inspiriamo si alza un po' e ogni volta che ispiriamo si abbassa ho le sensazioni che proviamo nelle narici mentre l'aria sfiora i bordi e le pareti interne delle narici ogni volta che inspiriamo ed espiriamo e lasciamo che la mente riposi nella consapevolezza del respiro così com'è accettandolo e accogliendolo così com'è e se arrivano pensieri che allontanano la nostra attenzione dalle sensazioni fisiche del respiro prendiamo atto che ciò è accaduto e senza rimproverarci senza considerare questo un errore semplicemente lasciamoli stare e ritorniamo con l'attenzione alle sensazioni del respiro e restiamo proprio così ad accogliere il nostro respiro spontaneo questo respiro nutriente che ci tiene in vita e che continua a essere presente nel nostro corpo in ogni momento sia che noi siamo svegli sia che dormiamo stiamoci insieme cavalchiamo le onde del respiro riconducendo l'attenzione al respiro ogni volta che ci accorgiamo che la mente ci ha portato altrove restiamo in contatto con le sensazioni che si sviluppano nel corpo ad ogni respiro prendendo nota dei pensieri che arrivano del loro contenuto in immagini o parole della loro qualità gentile, aspra e di qualunque cosa si tratti con molta gentilezza ma anche con fermezza riportiamo l'attenzione sul respiro e come meglio ci riesce proviamo anche ad avere un atteggiamento verso il nostro respirare più amorevole possibile la stessa amorevolezza che potremmo nutrire verso un bambino che dorme mentre lo osserviamo respirare proviamo a rivolgere al nostro stesso respiro questo tipo di atteggiamento e per qualche momento mentre siamo qui ancorati al nostro respiro proviamo anche a riconoscere qualunque emozione emerga qui durante questo esercizio e qualunque altra sensazione sia presente nel corpo in questo stato di osservazione interessata curiosa amorevole rispetto a qualunque tipo di esperienza sia presente ora a livello emotivo e sensoriale così come sai ora proprio così molto bene quando siamo pronti cominciamo a ritornare in contatto con le sensazioni che proviamo in questo momento nei piedi nelle gambe nel bacino nel busto nelle spalle nelle braccia nelle mani nel collo nella testa sgranchiamoci un po' e quando siamo pronti concediamoci di aprire gli occhi e di tornare in contatto anche visivo col momento presente e i i i i i Grazie per la visione! Grazie per la visione!